Ciao a tutti ragazzi e ciao a tutte le ragazze. Dopo il video della scorsa volta molto più cazzaro e una serie di video in cui... Ma non è che sono stati video stupidi, anzi, però sai sono stati video in cui ho trattato argomenti meno importanti. Ho notato che era il caso di toccare un argomento che come voi lo sapete già di cosa vado a parlare, perché sapete già quante volte questo argomento mi è stato affibbiato. Ogni volta che facevo una battuta, come nel precedente video, sui napoletani, piuttosto che sui sardi, piuttosto che sulle persone di colore, o mi sfuggiva una frase puramente ironica su un'etnia, una razza, un luogo, una cittadinanza, mi chiedevano alcune persone, Ned, ma sei razzista? Ned, com'è possibile che una persona così intelligente come te, così colta, sia razzista? Ned, ma sei veramente razzista? Rispondere a questa domanda e farci un video senza ipocrisia non è facile, perché io non sono né razzista né posso dirvi di non essere completamente razzista. Per me, l'uomo, per me e per altri studiosi, c'è un lungo, una lunga diatriba in atto dall'inizio del Novecento, tra gli studiosi, che riguarda appunto il concetto di razza. È corretto dire razza quando si parla dell'uomo, o è meglio utilizzare il gergo etnia, che altro non è che quasi lo stesso identico concetto di razza, ricalcato ed edulcorato, cambiato in alcuni modi? Però, non sono mai stato completamente d'accordo. Io considero l'uomo un animale, e l'uomo è un animale. L'uomo è scientificamente un animale ed ha dei comportamenti tipici dell'animale. Allo stesso fa bisogno alimentare di un animale, inteso deve mangiare, deve espletare i suoi bisogni, deve accoppiarsi, e paradossalmente, anche se l'uomo vanta questa grande intelligenza e questa capacità di adattarsi ad ogni ambiente, perché attenzione che la caratteristica che rende l'uomo l'animale dominante non è l'intelligenza, perché è scorretto dire che gli animali non hanno la nostra intelligenza. L'uomo è diventato quello che è grazie a quello che si chiama sviluppo ed evoluzione. Ma perché l'uomo è l'uomo e il cane è un semplice cane? Perché l'uomo era l'unica razza del regno animale in grado di adattarsi a qualsiasi tipo di condizione e ambiente esistente sulla faccia della Terra. Eppure l'uomo va considerato un animale. E come per i cani ci sono Gaski, Doberman, i Chihuahua, ci sono i Labrador, io non penso che cinesi, piuttosto che occidentali, piuttosto che orientali, piuttosto che neri, ma non solo neri, bianchi e gialli, detto volgarmente, ma penso che l'uomo, e adesso arriviamo con calma, non attaccate, penso che anche l'uomo abbia diverse specie, se non vogliamo chiamarle razze, o se vogliamo usare il gergo appropriato biologico abbia delle diverse etnie che esattamente come negli altri animali determinano il comportamento o perlomeno hanno delle caratteristiche fisiche e comportamentali le une diverse dalle altre. Questo significa che un nero non è uguale a un bianco. Fanno tutti e due parte dalla razza umana, ma presentano delle notevoli differenze. Il pensiero che però fa scalpore, rivoluziona, ed è un pensiero ancora oggi oggetto di mille dibattiti e studi, è ma queste diversità nell'uomo? Sono diversità anche psicologiche, comportamentali e non solo fisiche? Perché la realtà è che la scienza ci dice sì. Per esempio, cinque anni fa uno studio aveva appurato che gli albanesi avevano all'interno del loro cervello, producevano maggiormente, ora non mi ricordo se è più dopamina o più qualcosa, e che questo gli causava una grande adrenalina, un grande nervosismo e dei comportamenti spesso violenti. Non era detta così, non prendetemi in parola. Diciamo che degli studiosi avevano dimostrato del perché la razza albanese, l'etnia albanese, era più portata ad atteggiamenti violenti rispetto ad altre. Sono state poi analizzate anche le condizioni dello stato in cui uno vive. Perché ragazzi, un cittadino nato in Italia e un cittadino nato negli Stati Uniti, a livello di media, perché non tutte le persone sono uguali, su questo non devo neanche discutere, ha aperto una parentesi. Io non l'ho detto perché penso di essere abbastanza intelligente da non doverlo dire, penso che voi siate abbastanza intelligenti da capire che io non sto dicendo che tutti gli albanesi sono uguali, che tutti gli italiani sono uguali, che tutti... Io parlo di media, statistiche, grandi numeri. Dato che dobbiamo parlare di scienza, parlare di dati, parlare di biologia, parliamo di grandi numeri. Perché nessuno mai si sognerebbe di dire che tutti sono uguali e tutti sono identici. No. Però una certa etnia porta con sé, anche a livello di geni, porta qualcosa della sua etnia, diversa da un'altra etnia. Il cittadino tipico italiano è mentalmente, psicologicamente diverso dal cittadino medioamericano. E come è giusto che sia, in queste diversità ci sono anche comportamenti, spesso tipici di una determinata etnia, o che perlomeno rispetto ad altre etnie, in cui l'etnia si verificano maggiormente, che condizionano il pensiero comune su quell'etnia. E sarebbe scientificamente scorretto, e sarebbe una grandissima prostituzione intellettuale, far finta che l'etnia non determina la crescita di una persona. Perché chiaramente una persona nata in un territorio, ad esempio, arabo, da madre e padre arabo, tradizioni arabe, tipicamente degli arabi, lì già la religione, educata in un certo modo, crescerà in un certo modo, porterà al burka molto probabilmente, avrà un'idea di famiglia totalmente diversa dalla famiglia più occidentale, o dalla famiglia tipo di un francese o di un tedesco. Viceversa il tedesco, che è sempre così preciso, così puntiglioso sul lavoro, che ha questa idea del essere un perfetto soldato, tra virgolette, ha un grandissimo senso del dovere e del senso pubblico, questa grande appartenenza che ha la razza tedesca, questa fratellanza etnia, questa fratellanza che tengono i tedeschi tra di loro, tipici alla fine dei loro antenati, da dove discendevano, dal loro impero che ha regnato per oltre 500-600 anni, è inevitabile, il Giappone, un territorio così chiuso, dove c'era la geisha fino a 200 anni fa, e l'idea della donna era l'idea della geisha, un Giappone in cui tutto ciò che conta è la produttività dei singoli individui, dove le università in Giappone erano le uniche università al mondo ad avere alle finestre tutte le inferiate, giustificate, quindi non inferiate per bellezza, come noi mettiamo le inferiate perché almeno non si ammazzano gli studenti. Giappone, lo Stato con la più alta percentuale di suicidi, suicidi tutti avvenuti per figli insoddisfatti che avevano paura di far vedere ai genitori quello che era un disonore per la famiglia, addirittura un brutto voto. Ci sono tanti che si sono suicidati per un brutto voto perché era considerato poco onorevole. Sono mentalità. Ancora oggi il giapponese, tu non mi puoi paragonare un giapponese a un italiano. Non puoi. Ed è giusto capire che le diverse etnie hanno comportamenti, influenze diverse sia a livello culturale per la cultura in cui sono cresciuti sia per i geni che portano il DNA. Ma mentre la prima di queste due opzioni, di queste due spiegazioni è più facilmente accettabile perché qui nessuno può negarlo che chiaramente se è nato cresciuto in Giappone in una famiglia giapponese ricevi un certo tipo di educazione, un certo tipo di valori, se è nato e cresciuto in Italia ne ricevi degli altri. È chiaro, questo è lampante, evidente, non pensano neanche ci sia da obiettare. Molti obiettano sul fatto ma anche a livello biologico di DNA riusciamo veramente a trovare nel cervello che ancora oggi è uno dei più grandi misteri della scienza riusciamo a trovare delle molecole, delle cellule, riusciamo a trovare qualcosa nel DNA che ci dimostri che questa etnia ha qualcosa che quest'altra etnia non ha. Perché i neri sono notoriamente più abili e più forti fisicamente dei bianchi? Perché? E stanno cercando queste cose ma al puro fine scientifico, non raziale, non per dire tu sei un negro, fai schifo, tu sei un bianco, sei un incapace, no! Ma per dimostrare che nelle diverse etnie ci sono diversi comportamenti, diverse strutture, diverse scritture nel DNA e che quindi è giusta questa diversità ed è aberrante e tipicamente clericale, ecclesiastico, dire che l'essere umano, gli uomini sono tutti uguali e siamo tutti fratelli e sorelli uguali, identici. Questo è tipico della Bibbia, no? Perché l'uomo è fatto di immagini e somiglianza di Dio, quindi tutti gli uomini sono uguali tra loro. No, non è assolutamente vero. dei valori che sono valori di culture identitarie. Allora è evidente che in certi momenti tu, perché io non sono d'accordo sull'integrazione, perché tu non puoi volerti integrare con chi ti vuole uccidere. Una parte del fanatismo che viene dal Corano indica nell'infedele qualcuno con cui non puoi trovare un accordo. Lo devi eliminare. Ahmedina Jad, che era razzista vero, voleva cancellare Israele. E allora questo razzismo, questo problema. Il problema che ho io, come hanno anche altre persone che a volte fanno certe uscite, certe esternazioni, a volte semplici battute che causano casi di Stato. Allora, diciamo come la penso, perché questo, quello che voi volete, una vera onestà intellettuale, volete che io vi dica la verità di quello che penso. Io non sono razzista, ma sono prevenuto. Sono prevenuto nei confronti di una certa tipologia di persone. Ciò non significa che io non abbia avuto amici napoletani. Se vuoi ti dico anche i nomi. Uno si chiamava Pacbo e l'altro si chiamava Raffaele. Napoli, Napoli, eh. Ah, mi sono dimenticato. Un altro, Marco di Caserta. Amici uscito, ok. Non significa che, se sei napoletano, non ti parlo. Sei scemo. C'ho anche la mia pizzeria preferita qua, all'angolo. All'angolo, ma più o meno, che è di napoletani, ho dei buoni rapporti con i proprietari, si ride, si scherza. Però, sai, quando incontri un napoletano, sai che il napoletano ha qualcosa, spesso. Io la chiamo la furpizia. Il napoletano... Ecco, vedete, adesso voi vi incazzate già, perché dite, non è vero, Ned, non tutti i napoletani. Ma siamo onesti. Io vorrei dei commenti da parte dei napoletani onesti, e vi giuro, li blocco in alto. Non mi dite che molti, non pochi, molti napoletani vogliono far fesso chiunque e si reputano i più furbi del mondo. Non ci stupiamo, poi, se uno ha un determinato pregiudizio e quando deve ordinare un pacco su internet e legge che il pacco viene da Napoli, magari ci penso un attimo prima di ordinarlo. Perché lo sappiamo tutte le truffe che sono avvenute. E quello che dico, queste piccole cose, non significa che i napoletani sono merda, non significa che i napoletani sono brutte persone. Significa, da persona intelligente, l'esperienza insegna, perlomeno a stare attenti. Quindi, sai, un piccolo pregiudizio non fa male. Sarebbe invece stupido fidarsi ciecamente. Lo troverai stupido. Nei pregiudizi, nelle tradizioni popolari, si trova una grande saggezza. E nel popolo si trova, nella tradizione popolare, si trova la verità. E questo lo diceva anche Gaber. Non certo uno qualunque. Perché i popoli sono diversi. E già un milanese cambia da un napoletano, che cambia a sua volta da un sardo, che cambia a sua volta da un siciliano. E ognuno porta con sé un po' le tradizioni, la cultura, il sangue della propria patria. e può essere che non a tutti piaccia questo sangue. Noi milanesi siamo considerati più freddi rispetto a quelli del sud Italia. Siamo reputati troppo ligi al dovere, al lavoro, che non sanno godersi la vita, non sanno avere piacere. Sai, si sa come il milanese, che stanno in casa, niente mare. Sapete tutti questi pregiudizi. E io vi dico, da milanesi io li accetto, perché non sono completamente errati. E a me fa incazzare chi non accetta la battuta, non accetta lo scherzo, non accetta la presa in giro, che fa anche un brignano, per dire, su un'etnia, un colore, della pelle, un modo di fare tipico. Per esempio, brignano che prende in giro, ma in modo simpatico, i senegalesi, imitando il modo di parlare dei senegalesi, che fa morire da ridere. Cioè, non significa che tu sei una persona stupida o ignorante, perché valuti le persone in base a da dove provengono al colore della pelle. No, significa io da persona intelligente e non ignorante parlo con quella persona come la persona che è. Però mi ricordo sempre che ha un passato culturale, storico, che magari può essere molto diverso dal mio. Questo ce ne insegna anche la storia d'Italia, fino ad arrivare all'unità d'Italia. Ragazzi, è innegabile. Come è innegabile quando sono incazzati, quando ho detto sardi nazionalisti e mi sono incazzato come una bestia. È vero. È vero. Scusate l'autofocus, porco, quando ho detto sardi nazionalisti, sardi di qua, di su e di giù e è venuto un putifero. Ma è vero. Ragazzi, è vero. Molti sardi sono ipernazionalisti. Hanno chiesto loro l'indipendenza dall'Italia. L'hanno chiesta 30 anni fa o di meno. Non l'ho chiesta io. Quindi non puoi dirmi no, non tu ti so che cazzo sei un razzista. No, no. Tu mi potrai dire io non la penso così. Io sono sardo e io non voglio l'indipendenza dall'Italia e ti dico eh, ok, anch'io sono milanese e mi piace il mare. Però accettalo un pregiudizio. Accettalo. Accetta il fatto che uno parte o un attimo prevenuto o comunque considera da dove vieni. Poi parlandoci cambia opinione su di te. Perché quella è la differenza tra uno scemo e uno che non è scemo. Lo scemo ti guarda, magari sai, sei albanese, sono una ragazza sul tram, ho un attimo di soggezione, mi vedo questa... Però poi può essere che l'albanese è una persona tranquillissima. Ti dice ciao, come stai? Ti scambi... Vabbè, questo effettivamente è un albanese che ti ferma su un tram una bella ragazza. Vabbè, perché no? Magari per un ragazzo carino te lo conosci? Certo, perché questa è la persona intelligente che chiaramente va oltre il pregiudizio. Io non ho mai detto di non andare oltre. Io dico che però il pregiudizio deve esserci e sarebbe utopistico e da fuori di testa non avercelo. Perché il pregiudizio ti insegna addosso sia i pregi che i difetti della sua tradizione, della sua storia e della sua cultura. Ora, io so che molti magari mi insulteranno adesso perché non hanno capito il discorso. Questa è l'ignoranza. Non si può mai parlare apertamente di cose giuste e sacrosante che le persone si attaccano alla stronzata, si attaccano al fatto che i sardi sono così, vedo già il sardo che dici che cazzo di... Questa è l'ignoranza. Questa. Sono più razzisti loro che noi. Cioè le persone che appena solo dici sardo napoletano fai la battuta, no? del tipo una battuta stupida tipo stavo rispondendo a Napoletano che mi aveva insultato dicendo vorrei risponderti ma dato che sei di Napoli mi ruberesti le parole apriti cielo. Lui mi aveva pure insultato tra l'altro tipo figlio di puttana e roba così, no? Io non ti ho neanche insultato ti ho fatto una battuta sull'essere napoletano e tu te la sei presa come se fosse falso come se io ti stessi accusando di chissà io non ho accusato te di niente e non puoi pretendere che sia falso anzi da bravo napoletano dovresti farti una risata punto numero uno e scherzarci su come a me viene da ridere quando dicono al nord non c'avete il sole il mare respirate solo smog non è vero ma c'è un grande fondo di verità ed è giusto accettarlo è giusta questa diversità e il razzismo si crea secondo me quando voi rifiutate la diversità mentre se voi accettaste il fatto che esiste la diversità non esisterebbe il razzismo ma al momento in cui voi dite che siano tutti uguali lì si genera il razzismo lì lì mentre se riuscissimo a coesistere sapendo che siamo diversi allora lì non ci sarebbe più un mondo dove c'è razzismo omofobia e tutte queste stronzate spero di aver dato tutto spero che il video non sia stato troppo pesante spero voi abbiate capito lo spero veramente tanto fatemi sapere qui sotto nei commenti non cosa ne pensate del video ma se siete tipo di Napoli se siete sardi se siete siciliani siete stranieri siete albanesi siete rumeni fatemi sapere cosa ne pensate in molta sincerità e se spesso anche voi non vi siate resi conto che forse la bandiera che vi portate dietro le spalle ha un peso culturale e non può essere ignorata un bacio ci vediamo alla prossima buona giornata vieni aiutami baby non ci sto più con la testa ci ho messo l'anima bestia abbandonati al caos riguarda triste faccia per fare a guerra chi resta sogno un testa testa con dio mammi non cedo suda